il pezzo era veramente troppo piccolo ok, vogliamo provare a fare con zero giri dai, riproviamo su ok, vedete, basta veramente poco per trattenere il pezzo no, così basta è troppo leggero comunque, l'intento è quello di rendere l'idea il pezzo deve correre libero e l'operatore, se avete visto, lui rimane con le mani aperte perché è proprio la frizione che deve lavorare tutto il lavoro deve essere fatto dalla fune che fa attrito sul mio porto in questo caso si chiama portarappo, ho ancora rotto ok, in modo da controllare e trasformare questa energia da, abbiamo detto, elastica in energia del calore chiaramente il pezzo quando arriva vicino al terreno per poterlo fronare basta semplicemente trattenere un po' la corda quindi aumento l'attrito ok, e con veramente poco sforzo vado a bloccare il pezzo prima che vada a toccare terra ok, 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 ok